Omega Constellazione dei DAT, l'eccellenza dell'orologeria Nel vasto panorama dell'orologeria di lusso, pochi modelli brillano con l'intensità e l'eleganza del Constellazione dei DAT. Questo modello è stato introdotto per la prima volta per rispondere alle esigenze di chi cerca un orologio da pulso che rappresenti un'armoniosa combinazione di design raffinato e funzionalità avanzata. La sua storia affonda le radici in un'epoca in cui l'orologeria diventava sempre più una dichiarazione di status e gusto personale. La caratteristica più iconica del Constellazione dei DAT è senza dubbio la sua capacità di visualizzare la data e il giorno della settimana su due subquadranti o su due finestrelle, dimostrando la precisione e l'artigianalità della Maison. L'ampio quadrante, spesso decorato con dettagli lussuosi come indici diamantati, riflette l'attenzione ai dettagli che caratterizza l'orologio. L'uso di materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile e l'oro, contribuisce all'estetica di lusso e alla durabilità dell'orologio. Il Constellazione dei DAT non è sfuggito all'attenzione di celebrità di fama internazionale, che hanno scelto di indossare con orgoglio questa creazione di lusso. Personalità influenti nei campi dell'intrattenimento, degli affari e della moda hanno reso questo orologio una dichiarazione di stile e successo. Inoltre, il Constellazione dei DAT ha stabilito record di affidabilità e precisione nel corso degli anni, sottolineando la sua posizione di rilievo nell'orologeria di lusso. Il suo movimento meccanico automatico è stato sottoposto a rigorosi test di durata e precisione. Il Constellazione dei DAT rappresenta il culmine dell'artigianalità, dell'eleganza e dell'ingegneria orologera.